Penso che sia doveroso mettere in sicurezza i bimbi, mettere in sicurezza l'ospedale e dopo accendere la luce su tutta questa vicenda, senza volontà di fare il giustizialismo, ma sicuramente chiarire bene cosa sia accaduto, visto che il tema di un'infezione ospedaliera così importante in un reparto così delicato che è quello della neonatologia, non è cosa di tutti i giorni. Quindi partendo dal presupposto che il nostro ospedale è una gestione sulla quale non esiniamo nello spendere per la messa in sicurezza, vogliamo capire qual è stato il motivo e quali sono state le cause e dopodiché abbiamo il doveroso, purtroppo non riusciremo più a ridare la vita a quei bimbi, ai bimbi che si sono ammalati, ma sicuramente delle risposte anche sotto profilo giuridico alle famiglie che hanno subito ovviamente questi lutti e questi danni.